in questo video la testimone serafina per un cabus racconta dei divertimenti giovanili della sua generazione lo sci cominciavano allora esserci primi rudimentali impianti di risalita le danze in occasione delle feste dei paesi limitrofi la testimone originaria di san marco frazione di ulx ma ricorda come la jeunesse la gioventù si recasse in feste in gruppo anche alle feste del capoluogo di sauce dulx di cesana di salbertran tutti i paesi dell'alta val di susa che condividono con san marco delle parlate occitane a differenza di quanto avviene a valle di chiomonte infatti nei possedimenti sabaudi della bassa val di susa e della val cenischia si sono diffuse parlate di tipo franco provenzale probabilmente per influsso dei contatti che si sono stabiliti con la morienne attraverso il moncenisio la parlata della testimone presenta molte caratteristiche interessanti qui ci limitiamo sottolineare l'articolazione fricativa ovulare di alcune che troviamo anche nel caso in cui la vibrante derivi da una laterale come nel caso di eicor scuola e il sistema dell'articolo determinativo che è comune a quello dell'alta dell'alta valle del chisone e a quello dell'ocitano in generale per alcune forme ma è diverso da quello tipicamente cisalpino che presenta l'articolo lì per il maschile plurale sentiamo infatti la testimone pronunciare luschi per gli sci con l'articolo lus che deriva regolarmente da illos mentre al singolare invece dell'u come in area occitana sentiamo l'articolo l comune con il piemontese ma anche simile alla forma francese l al femminile gli articoli sono la al singolare come in tutta l'area e la al plurale con l'allungamento della vocale dovuto alla caduta davanti a consonante della s originaria come nelle valli chisone germanasca la parlata di ulx è documentata dall'atlas linguistique de la france e da un prontuario morfologico promosso dall'associazione culturale lavaladdo la prima volta di un paolo di un'altra per quello che non vogliamo. Allora, noi venivamo qui all'arriva. Allora, noi andavamo avare la blusa, le vieno la garoche, la schossa di l'arma, e la roba. E quando noi andavamo, allora noi arrivavamo fino all'estuma. Allora, noi andavamo bene, noi andavamo alle cose. Allora, noi andavamo alla barbola all'ietta, perché non aveva la macchina montava. Allora, noi andavamo due metri di attenzione per assicurare due giorni, che andavamo via la prana posta, attenzione per andare alle cose. Allora, noi andavamo a fare pari. di attenzione per la barbola all'iett. Allora, noi andavamo a fare le impianti, le letture, le letture, le letture, le letture, e noi andavamo a fare le impianti. però, quando noi guidavamo, quando noi facciamo paia, noi non conosciamo, noi andavamo a fare le impianti, all'iettino per fare le impianti. Allora, noi andavamo a fare le impianti, e poi noi andavamo a fare le impianti. E poi, però, perché noi andavamo a fare le impianti, perché noi andavamo a fare le impianti. e poi, e poi, e poi, noi andavamo a fare le impianti, perché noi andavamo a fare le impianti. La renesse, il vit per tanto divertimento, per tanto cosa. Il danse, il danse, il danse, quando è la fetta del paio, più proche. Allora, se ricominciava, io non so, che era 1851. Allora, il vino, che c'è un bastione. e poi, l'arrivo, poi sommarca i vincinti, quindi, poi, la carattura, tutto inizia, la sanzana, un samalitrone, quindi un giro. E poi, la sanarca di un paio, tutti. E quindi, noi andavamo, tutti insieme. E così, quando si tubersi, Noi siamo tutti in braccia, nel tempo della vita, e noi stavamo tutti bravi. E i padri che si trovavano, poi si innamoravano, si raffianzavano, si maravano e voilà. Però se un figlio, o se un botte, prendi un figlio dal paio, non ti appaia la barriera. Quando si trovavano l'inglese, e poi l'avano paio il paio, perché l'aldina, la genezza dice che paio ci, che li prendi quel figlio, che li maria quel figlio. E' un po' di rivema tutto l'inglese, e poi un po' di giro, e poi si muovano le giovani, che li prendi un po' di giro. E poi si un po' di rivemo, e poi si guida in una somma, e si trova un po' di rivema. Ciao!